Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Vecrisis perché dobbiamo trattare probabilmente un altro argomento abbastanza complesso ma che comunque possiamo riuscire a districare ovviamente tra le nostre conoscenze e soprattutto quello che ho avuto modo di imparare dalla beta ma soprattutto quello che ho imparato giocando con mano e potendo finalmente darvi una guida completa su quello che tratta la materia e la sintesi quindi diciamo che sono due processi covalenti fondamentalmente perché che cosa si intende? Si intende che la sintesis sarà per l'appunto la possibilità di poter creare da zero le nostre materie mentre invece il menu materia serve solo ed unicamente per gestire le materie che già possediamo quindi farle aumentare di livello, farle aumentare di qualità, farle aumentare di anzi più che qualità farle aumentare di livello e quindi permettere alle nostre materie di diventare sempre più forti però i passaggi di base sono sempre gli stessi partiamo però ovviamente dal principio partiamo ovviamente dalla parte più semplice se così si può dire ovvero dal menu delle materie il menu delle materie come potete vedere ci dà una sommatoria di quello che è il nostro possesso quindi tutte le nostre materie che possediamo sulla destra in base ovviamente poi anche ai vostri filtri potete regolarle per essere mostrate a partire magari dalla rarità più alta a quella più bassa o magari a qualsiasi altra statistica che per l'appunto vi interessa sicuramente i filtri o comunque in questo caso dalla parte diciamo dei filtri di base secondo me la scelta più giusta sarebbe la rarità discesa e poi ovviamente mettete no per dare priorità a quelle che sono al momento equipaggiate niente io oggi l'italiano l'ho scordato a casa e quindi di conseguenza avere la possibilità di avere comunque un occhio un po' più puntato verso magari quelle materie buone che potete portare su oppure quelle materie non buone che potete offrire in pasto per il level up perché? perché le nostre materie come potete vedere hanno la possibilità di crescere in qualità crescere in qualità che viene identificata tramite le stelle quindi partiremo da una stella fino a un massimo di 5-6 stelle che ora andremo a vedere poi nel menu della sintesi e successivamente parlando tramite il menu di potenziamento o vendita delle materie possiamo decidere che cosa fare ovviamente venderle ci permetterà di ottenere dei soldi quindi ci permetterà di ottenere dei gil ma ovviamente io non reputo questa scelta saggia perché comunque sia a sto punto tanto vale utilizzare le materie per potenziare altre materie oppure utilizzare poi in combinazione oggetti e materia per portare su più facilmente il livello dei nostri equipaggiamenti, delle nostre materie il menu enhance in questo caso ci consente di far apparire il menu che è molto simile praticamente a quello delle armi quindi avremo la possibilità di potenziare in questo caso la mia materia ruin blow con oggetti che possono essere identificati tramite i materia boost quindi le pozioni che otteniamo durante il nostro gameplay ottenibili in diversi modi oppure dare in pasto alle materie altre materie di cui ovviamente non ci facciamo nulla quali sono i criteri per poter dire che una materia possa essere più o meno utile o no nel senso come faccio a dire ah ma questa materia è buona questa materia no ovviamente in base al personaggio che deve equipaggiare quel tipo di materia ora se io per esempio vi faccio vedere una ruin blow gialla quindi identificata come attacco fisico perché ricordatevi che le materie possono essere facilmente identificate in attacco magico attacco fisico e supporto generale che poi può essere ovviamente un supporto cura o un supporto buff debuff ma quello ovviamente è un supporto sempre identificato come tale le materie gialle corrispondono per l'appunto come in Final Fantasy 7 ai comandi quindi tecnicamente ci riferiamo agli attacchi fisici mentre invece quelle verdi sono identificate con le materie magiche infatti come su Final Fantasy 7 letteralmente le materie verdi appunto permettevano di ottenere le magie poi ovviamente l'identificazione dell'elemento della nostra materia si può guardare tramite appunto il disegno questa con le fiamme è fuoco, questa con il ghiaccio è blizzard, questa con il tuono è thunder eccetera eccetera questa con appunto il live stream che si vede tutto attorno è cura quindi in base ovviamente anche alle icone saremo in grado di identificare le nostre materie poi abbiamo appunto Shell che sarebbe in questo caso Mana Ward che appunto ci difende dagli attacchi fisici Healing Poison che come potete vedere ha le goccioline di veleno quindi in base ovviamente il Protect che invece è azzurro anziché essere diciamo rosa barra fucsia quindi ci sono diciamo tanti elementi che contraddistinguono le nostre materie The Brave che abbassa l'attacco con le freccette verso il basso quindi abbiamo la possibilità comunque di identificare le nostre materie anche in base alle icone e soprattutto al colore della stessa una volta parlato ovviamente di questo menu che fondamentalmente serve solo a rifinire un pochettino quello che noi abbiamo già a disposizione andiamo nella zona di sintesi che è probabilmente la zona più frequentabile da questo punto di vista perché in fin dei conti saremo sempre qui pronti a craftare altre materie e cercare di ottenere una qualità sempre maggiore come potete notare le nostre materie verranno incubate sarà una sorta di incubatrice quella che abbiamo noi a disposizione all'interno del gioco e che ci consentirà di far crescere letteralmente la nostra materia tramite ovviamente un timer che sarà randomico che potrà variare di diversi minuti in base ovviamente alla materia che si andrà a produrre successivamente ora in questo caso mi mancano pochi minuti per ottenere queste materie io direi che in questo caso mi posso permettere di espandere il mio slot tanto 100 gemme non sono nulla si prendono con un qualsiasi evento e mettere un terzo slot così lo faccio insieme a voi che cosa si fa all'interno del menu di sintesi? ovviamente Synthetize quindi si va a sintetizzare come si va a sintetizzare una materia? ovviamente sulla destra avremo il nostro avremo il nostro menu dove potremo vedere tutte le nostre materie di base e quelle che potremo craftare in un modo o nell'altro avremo delle ricette perché per l'appunto si tratta di ricette che ci consentiranno successivamente di produrre le nostre materie infatti se guardate sulla sinistra il menu praticamente sulla sinistra avremo la necessità in questo caso di ottenere come oggetti per craftare dei materiali che si possono ottenere tranquillamente giocando normalmente tramite ricompensi di quest tramite ovviamente lo scambio di punti tramite gli eventi o le co-op vi ricordo che le co-op e gli eventi saranno sempre e comunque il miglior posto dove utilizzare la stamina e dove poter ottenere oggetti in grosse quantità oppure se volete farmare da soli perché non potete fare le co-op o altri problemi ci sono le quest vere e proprie che vi daranno la possibilità di ottenere oggetti per la sintesi quindi tramite il menu home solo content e poi synthesis quest ora ve lo faccio vedere comunque perché devo comunque farvi vedere anche dove ottenere le varie ricette perché giustamente come potete notare alcune le avremo di base sbloccate perché il gioco ci darà la possibilità di poterle ottenere automaticamente mentre invece alcune ricette devono essere sbloccate infatti noi abbiamo praticamente la ricetta in questo caso la Fire Recipe che ci consente per l'appunto di ottenere la possibilità di sintetizzare la materia di tipo Fire che può essere ottenuta nella synthesis quest materia infatti le prime ricette che si possono ottenere all'interno del gioco si ottengono praticamente tramite il menu solo content successivamente enhancement quest, synthesis quest quindi da qui basta completare semplicemente il primo livello quindi il primo stage di tutti quanti i vari elementi per ottenere la ricetta dell'elemento selezionato poi ovviamente man mano si andrà avanti con i vari livelli che tra l'altro ancora non ho fatto per una questione mia personale perché io tutti gli oggetti li ho ottenuti per l'appunto tramite il farming delle coop quindi non ho avuto mai la necessità di dovermi andare a soffermare e sprecare tra virgolette stamina in questi livelli però come potete notare ogni livello avrà la possibilità di droppare degli oggetti o comunque sia dei materiali per l'appunto per sintetizzare le vostre materia però quello che vi interessa per ottenere almeno la ricetta è il primo livello quindi direi abbastanza semplice anche perché comunque i requisiti sono soltanto 20.000 di forza e 20.000 di forza comunque si riescono a raggiungere abbastanza in fretta con un team da 3 cosa invece un po' più ostica probabilmente sarà l'ottenimento di altre ricette perché altre ricette si otterranno tramite i dungeon e in più nello specifico i criterion dungeon dove ovviamente noi possiamo andare in giro e ovviamente trovare dentro i forzieri alcune di queste ricette mentre invece come ricompensa di completamento avremo la possibilità di ottenerle all'interno delle crisis dungeon quindi una volta completato in questo caso vi faccio vedere il crisis dungeon nelle ricompense della prima volta in base al vostro rank avrete la possibilità di ottenere degli oggetti e come potete vedere alcuni oggetti rappresentano per l'appunto altre ricette quindi mi raccomando fate ovviamente un buon clear cercate di ottenere il miglior score possibile perché questo? perché ovviamente non solo si otterranno ottime ricompense dal completamento di questi livelli di questi dungeon ma si otterranno anche altre ricette per altre materia infatti se noi andiamo qua possibilmente ci saranno a meno credo ci saranno altre ricette forse no forse nella zona hard no ok nella zona hard non ci sono però diciamo che nella zona normale sì le ricette sono disponibili poi è ovvio che le ricompense dei vari diciamo dei vari dei vari dungeon possa cambiare perché giustamente poi bisogna capire un pochettino vedete qua per esempio abbiamo ottenuto altre ricette quindi ci sono ovviamente livelli e livelli dove è possibile ottenere quello che ci interessa ora qui abbiamo sintetizzato la nostra materia quindi vediamo se siamo stati fortunati due stelle va bene attacco fisico più due eccetera eccetera ecco ora se avete notato una cosa nello specifico avete sicuramente notato che le materie per l'appunto possono essere realizzate e possono essere craftate con dei con delle statistiche in questo caso riportate sulla sinistra dove la prima solitamente viene mostrata e tutte le altre invece hanno i punti interrogativi per chi ovviamente ha dimistichezza con genshin impact o giochi dello stesso calibro come un kai star rail già probabilmente hanno capito un pochettino l'antifona ed è esattamente la stessa cosa ragazzi bisogna craftare le materia in base ovviamente al personaggio a cui daremo come equipaggiamento quella materia avere delle substats affini con la sua build quindi le materie in questo caso all'interno del gioco possono essere tranquillamente paragonate agli artefatti di genshin impact o di hongkai star rail proprio letteralmente sono gli artefatti o comunque le relics se così ovviamente li volete chiamare quindi o in italiano o in inglese però fondamentalmente sono quelle infatti equipaggiate i nostri personaggi ci consentono di sbloccare l'abilità corrispondente e al tempo stesso ci consentono anche di avere le statistiche corrispondenti qualora noi ovviamente riusciremo in un modo o nell'altro a portare il livello superiore della materia stessa ovviamente per craftare potremmo tranquillamente sintetizzare al costo di 100 gil una materia direttamente con un processo o comunque con un periodo di tempo che può variare fino a 50 minuti quindi diciamo che abbiamo un lasso di tempo che può durare fino a 50 minuti e ovviamente in base alle vostre materie come potete notare abbiamo il tempo che viene considerato in maniera diversa quindi addirittura 640 minuti 150 minuti 300 minuti eccetera eccetera quindi ogni materia avrà un suo lasso di tempo per essere formata il lasso di tempo è ovviamente randomico però più è alto il tasso di tempo più è probabile che la vostra materia sia di qualità superiore quindi dovete sempre sperare di raggiungere comunque un quantitativo di ore o comunque in questo caso di minuti alto per ottenere comunque una materia diciamo di qualità migliore ma per aiutarvi un pochettino a gestire la situazione e quindi permettervi di avere una materia di qualità superiore intervengono i materials infatti se noi andiamo nella parte in basso dove c'è scritto add materials abbiamo la possibilità di inserire degli oggetti inserire degli oggetti che una volta una volta diciamo immessi nel processo di raffinazione di creazione della materia ci consentono vedete di ottenere delle garanzie in questo caso mettendo un pezzo di sintesis di livello più basso ci permetteranno di ottenere una materia di livello 2 con due stelle garantite due stelle o più garantito quindi il nostro crafting sarà comunque di refino comunque di qualità 2 o più alto ovviamente inserendo più oggetti come potete notare avremo due stelle o più garantite e due substats garantite che vuol dire due substats garantite vuol dire che nel momento in cui crafteremo la nostra materia avremo la possibilità di vedere fin da subito le substats che che per l'appunto possiede la nostra materia e non saremo costretti a sprecare oggetti di potenziamento per vedere come evolverà quella materia quindi da un lato ci consentono di risparmiare dei ci consentono comunque di risparmiare oggetti per il power up e ci consentono di vedere subito se una materia è buona oppure no e poi ovviamente man mano che andremo avanti riusciremo ad ottenere sempre più bonus quindi quello che noi ovviamente poi andremo ad ottenere anche in base appunto all'unione dei vari materiali a disposizione quindi 3, 4 e addirittura 5 stelle avremo la possibilità di far crescere la nostra materia in qualità oppure in substats già predefinite ora per il momento io vado con una sola di di catalyst di sintesis catalyst dove appunto ci consentono di ottenere 2 stelle o più così almeno abbiamo una qualità decente della materia sia per quanto riguarda i danni e sia anche per quanto riguarda le substats quindi facciamo aggiungi e nel momento in cui saremo pronti a craftare facciamo sintesi e qui verranno visualizzati gli oggetti che andremo ad utilizzare quindi i vari cristalli per la sintetizzazione della materia e il catalyst quindi il catalizzatore in questo caso che ci consente di incrementare già da subito a 2 il livello della nostra materia quindi facciamo sintesi e come potete vedere è stata praticamente aggiunta e tra mezz'ora in questo caso la otterremo quindi non è andata benissimo perché mezz'ora è solitamente il tempo base per una raffinazione di probabilmente 2 stelle qui nel frattempo ne abbiamo finita un'altra niente sempre 2 stelle e quello che ci interessa sapere è questo quando otterremo le materia in base ovviamente agli oggetti che avremo dato in pasto alla nostra materia potremmo sapere in anticipo già quali substats ottenere cioè avremo la possibilità di vedere già le substats sbloccate e non necessariamente potenziare la materia per vedere se appunto possiamo tenerla oppure no in realtà se parliamo di una qualità materia così bassa possiamo anche potenziarla e poi qualora non fossimo soddisfatti ridarla nuovamente in pasto ad un'altra materia per tentare comunque di recuperare qualcosa però ovviamente vi consiglio di farlo in modo relativo perché si andrà comunque a perdere perché noi andremo a maxare una materia a livello 5 mentre dandola in pasto porteremo la materia diciamo che stiamo potenziando solo a livello 4 quindi perderemo tecnicamente un livello ogni qual volta faremo questo processo e quindi sono materie sprecate o comunque oggetti sprecati come facciamo a identificare delle substats buone ovviamente come vi ho detto prima in base al personaggio a cui dobbiamo equipaggiarlo quindi se noi abbiamo una materia che deve essere equipaggiata a un personaggio magico ovviamente cercare l'attacco fisico non ci serve a niente in questo caso essendo comunque una materia magica che quindi non ha nulla a che fare con l'attacco fisico trovare nelle substats attacco fisico sicuramente non va bene HP e heal sinceramente possono anche starci perché anche gli healer avranno bisogno di materie di break sigillo proprio per dare una mano nella fase appunto di combattimento del dello spezzamento dei vari sigilli avversari però l'attacco fisico in questo caso è proprio una stats che non c'entra niente altra cosa che bisogna notare saranno sicuramente i buff in percentuale e i buff flat i buff flat sono quelli che per l'appunto vengono identificati con un numero preciso e non con una percentuale il mio consiglio è quello di cercare sempre e comunque buff in percentuali perché i buff in percentuali saranno sempre più alti rispetto a un flat o almeno saranno più alti rispetto a un flat sul lungo termine magari all'inizio potreste privilegiare i buff flat perché comunque anche un HP più 6 per esempio già effettivamente rispetto a uno 0,5 magari su un migliaio di HP alla fine potrebbe effettivamente convenire avere un più 6 diretto e arrivederci però il mio consiglio soprattutto per il futuro o comunque per chi ha intenzione di concentrarsi nel farming delle materie è sicuramente puntare alle percentuali anche perché poi man mano che si aumenta di livello cresceranno e quindi comunque avere anche un 5 10% di attacco rispetto a 3000 o comunque 2000 potete capire già che stiamo parlando di cifre molto più alte quindi assolutamente io vi consiglio i buff in percentuale ora facciamo anche un'altra ruin però in questo caso fisica perché a me servono entrambe quindi devo ottenerle in entrambi i casi quindi facciamo un'altra sintesi andiamo e qui invece 43 minuti quindi questa effettivamente non è non è male potrebbe risultare essere una materia probabilmente 3 stelle 3 azzarderei 4 ma forse 4 è un po' troppo però sicuramente potrebbe essere 3 stelle e qui invece adesso mettiamo a sintetizzare mettiamo a sintetizzare sì potrei mettere un thunder blow per cloud magari è che io ho già un thunder blow l'ho ricevuto forte ecco il water blow mi mancano i materiali giustamente ecco potrei fare un'altra abilità di cura che in realtà mi mancano mettiamo ecco vedete nel momento qui come potete vedere mettere praticamente gli oggetti in questo caso mi consentono addirittura vedete di arrivare già a livello 4 avere tre substanti garantite e poi due stelle o più quindi già praticamente una materia quasi quasi eccellente però io questa cosa non la faccio a me va bene direttamente due più per il momento dato che voglio in un modo o nell'altro poi farmarmi anche tutti i materiali corretti quindi per il momento mettiamo in sintesi fino a 640 minuti quindi vediamo un po' quanto tempo perdiamo 6 ore e 42 vabbè vedremo un pochettino quello che succederà e detto ciò questo è quello che ci interessa sapere sulle materie quindi avere ovviamente fortuna per quanto riguarda i roll delle statistiche avere fortuna anche da un lato fino a quando non si potranno ottenere oggetti in particolare che ci daranno una qualità superiore delle nostre materie e poi per il resto è al solito potenziare craftare potenziare craftare e decidere quali materie sono adatte ai vostri personaggi quindi cercate comunque di identificare la tipologia del vostro personaggio tipo se avete un attaccante fisico ovviamente craftate materie fisiche o comunque craftate delle materie anche magiche perché delle volte vi serviranno comunque delle materie magiche però con statistiche che vanno ad aumentare gli attributi fisici quindi avere comunque la possibilità di rimanere forti nonostante un piccolo svantaggio di non sinergia con il vostro personaggio detto questo non credo che ci sia altro da aggiungere effettivamente sulle materie spero che il discorso possa esservi stato utile mi sono dilungato un po' ma ci tenevo a fare un discorso completo un po' come abbiamo fatto con le build dei vari personaggi la volta scorsa quindi ci tenevo ad essere il più preciso e ci tenevo appunto a spiegarvi il tutto in un'unica botta per evitare di perdere passaggi se ovviamente ci sono domande ci sono dubbi e anche altre richieste vi invito ad utilizzare lo spazio apposito dei commenti detto ciò io vi ringrazio per essere stati con me mettete un pollicino in su per aiutare il canale seguite se volete altre guide su Final Fantasy 7 Ever Crisis e noi come sempre ci becchiamo qui con un prossimo appuntamento con un video o in live su Twitch praticamente tutte le sere a partire dalle 21 bye bye bye